Musica Buongiorno e benvenuti alla prima edizione di Ora Tg. Vi mostriamo in esclusiva le immagini dei fondali di Ognina, dove nelle scorse settimane sono partiti degli interventi di bonifica di pulizia straordinaria e dove se ne prevedono altrettanti. Un vero e proprio scempio ambientale. Ieri anche il nuovo sopralluogo dell'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone. Le acque torbide in sottofondo e il respiro dei sub che scandagliano i fondali di Ognina dove regna un degrado devastante. I relitti di barche non si riescono a contare addormentati. Li vedete ricoperti di flora marina, segno di un tempo esagerato trascorso qui sotto in queste immagini in esclusiva che raccontano di uno specchio di mare del porticciolo catanese dove c'è ancora molto da fare, nonostante siano già stati tirati su anche mezzi a due ruote e una ingente quantità di materiale ferroso. Ci sono rifiuti tossici come batterie di auto esauste, pneumatici, spazzatura, tanta plastica e vetro che dovranno essere riportati a galla fuori da questo prezioso ecosistema tradito dall'incuria umana. Intanto, nuovo sopralluogo dell'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Marco Falcone. A pochi giorni dalla visita del governatore nello Musumeci resta alta l'attenzione sul sito che dallo scorso mese di settembre è oggetto di lavori di bonifica dei fondali che sono partiti grazie alle sollecitazioni del gruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale. Si fa sempre più chiaro quanto necessario il piano di interventi che si inserisce in un progetto più ampio per la bonifica e la salvaguardia dei porti siciliani. Non a caso arriva la conferma che per un dragaggio completo qui si dovranno prevedere più tappe proprio per ridare decoro e vivibilità ad una delle aree più amate e frequentate del capoluogo etneo. Un intervento di bonifica che dobbiamo fare facendo uno scandaglio dei fondali verificando sino in fondo cosa c'è e poi cercando di ricreare quell'abitat naturale per i pesci per consentire appunto che vi possesse una produzione non indifferente così come è avvenuto nel passato. Ciolo di Ognine è stato un elemento attrattivo del turismo, della curiosità di tutti coloro che frequentano Catania oltre che dei catanesi. È stato un miglior all'occhiello di Catania e dei dintorni. Oggi con questo intervento stiamo cercando di poter ricreare un gondesto proficuo un gondesto diciamo così anche sotto un profilo esteticamente valido. In questo senso riteniamo che questo primo intervento debba essere propedeutico ad altre operazioni di pulizia e bonifica perché ogni porto meriterebbe interventi appunto programmati. Questo non è mai avvenuto. Da 30 anni mi si dice che in questo porticciolo non sono stati fatti interventi di bonifica. Oggi la stiamo facendo. Certamente abbiamo detto che deve essere uno di altri e di tanti altri interventi che verranno fatti nel prosieguo al fine appunto di rendere questo contesto a misura non soltanto dei pescatori ma a misura dei turisti insomma a misura di una città prestigiosa come Catania. Noi siamo soddisfatti perché a iniziare dai consiglieri comunali qua abbiamo il consigliere Petralia, il consigliere Grasso, dall'amministrazione pogliese l'assessore Parisi, Cristaldi, insomma tutti, c'è stato l'assessore Cantarella hanno dato grande supporto a questa iniziativa che chiaramente non poteva che essere condivisa ma noi abbiamo raccolto le aspettative anche di coloro che vivono costantemente quotidianamente questo meraviglioso contesto. Rimaniamo a Catania ma per parlare del fatto che il consiglio comunale ha approvato la delibera sull'affidamento setennale del servizio di raccolta dei rifiuti, una gara da 350 milioni di euro. 17 voti favorevoli, 9 astenuti. Il consiglio comunale di Catania ha approvato ieri la delibera dell'amministrazione che consente la pubblicazione della gara di appalto settennale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Il comune quindi ritenta l'affidamento dell'appalto ma dopo aver rimodulato anche attraverso la SRR il capitolato motivo per cui per ben cinque volte il precedente tentativo di appalto era andato deserto. La Giunta Pogliese ha riavviato le procedure modificando sostanzialmente i canoni del dispositivo puntando tutto sulla raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema del porta a porta per la valorizzazione, il riciclo del rifiuto e quindi risparmio in bolletta in un settore della pubblica amministrazione cittadina sin qui non sempre efficiente ed economicamente eccessivamente dispendioso. Catania è stata divisa in tre macrolotti, quello nord e quello sud hanno medesime dimensioni mentre quello centrale più grande. Complessivamente saranno serviti 311.000 abitanti divisi in 166.000 unità domestiche e 15.000 unità non domestiche. Tutti verranno forniti di mastelli numero di 5 per ogni unità per consentire la differenziazione mentre ai condomini saranno destinati contenitori anche carrellati più ampi. Lo spazzamento sarà di tipo misto con una riduzione delle spazzatrici e il ripristino dello spazzamento manuale soprattutto in quelle strade in cui la meccanizzazione aveva provocato più disagi che benefici con lavaggio strade e cassonettistica. 846 le unità in servizio nel segmento della raccolta e valorizzazione dei rifiuti di cui 501 operatori e 282 autisti. L'utile di imprese è stato aumentato sino al 5% del costo dell'appalto portando così il costo annuale del servizio a 47.717.000 euro. Infine la divisione dei lotti. A quello sud appartengono San Giorgio, Fossa Creta, Cimitero Librino, Villaggio Sant'Agata, Zia Lisa, Pigno, Santa Maria Goretti, San Giuseppe, Larena, Playa, Zona Industriale, Villaggio a Mare. Del macrolotto centro fanno parte Nesima, Inferiore, Via Palermo, San Leone, Borgo, Cibali, Centro Storico, Castello Ursino, Faro, Zona Steppo, Ogni e Piganello. Il macrolotto nord è formato dai quartieri Monteponesima, Superiore, San Giovanni Galermo, San Nullo, Policlinico, Barriera, Canalicchio, Feudogrande. Riteniamo di aver messo in campo il miglior appalto possibile con le risorse che abbiamo a disposizione. In questo senso ringraziamo anche la SRR e il dottore Caruso per l'ultimo lavoro fatto. L'obiettivo è proprio quello di introdurre il sistema della raccolta porta a porta in tutto il territorio. Oggi purtroppo appena il 12% ha questo tipo di sistema di raccolta e togliere quei cassonetti che come sappiamo per noi sono una criticità enorme perché diventano l'oggetto di abbandono indiscriminato, di rifiuto indifferenziato. I tempi? Oggi rimandiamo tutto alla SRR che è la stazione appaltante. A metà dicembre l'appalto potrebbe essere pubblicato e quindi confidiamo che il primo trimestre del 2021 possa essere quello della svolta che aspettano i cittadini, che aspettiamo noi. Abbiamo un impegno per abbattere la Tari, abbattendo i costi in discarica che sono quelli che incidono maggiormente sul servizio. Parliamo di oltre 2 milioni di euro al mese, 24 milioni di euro l'anno. Ecco, lavorando su questo, togliendo i cassonetti, riteniamo che possiamo mantenere l'impegno di ridimensionare il peso della Tari. Avviato il servizio di raccolta dei rifiuti nelle abitazioni di soggetti positivi al Covid sarà gestito da Dasti in 12 comuni etnei. Una delle grandi criticità legate alla pandemia è rappresentata dal ritiro e trattamento dei rifiuti infettanti pericolosi, quelli prodotti da cittadini positivi al Covid-19 che non devono effettuare la normale raccolta differenziata. Dopo i ritardi di disagi registratisi nei mesi passati in molti enti locali, l'ASPE di Catania e Dasti, azienda che si è giudicata all'apposito appalto per 12 comuni, assicurano che in pochi giorni il servizio sarà a regime. Vi rientrano la stessa Catania, Gravina, Mister Bianco, Motta Sant'Anastasia, Paternò, Sant'Agata Libattiati, San Giovanni La Punta, San Gregorio, Valverde e Via Grande, dove si è già partiti lunedì scorso, da oggi invece al Via, anche a Mascaluccia ed Adrano, dove Dasti svolgerà solo questo servizio e non quello della differenziata. Il cittadino dovrà fare la raccolta, cioè ovviamente i rifiuti che producono dovranno essere non differenziati, quindi essere messi in dei sacchi di plastica e quando noi li contatteremo, li andremo a visitare e porteremo dei contenitori idoni per il contenimento di questi rifiuti che purtroppo saranno classificati come rifiuti infettivi e vengono gestiti in questa maniera. L'azienda sanitaria ha fornito alla ditta la lista degli aventi diritto. Sono residenti positivi attualmente o guariti dal coronavirus, tutto nel rispetto delle norme sulla privacy, segnalazioni a Dasti attraverso un numero verde o un indirizzo di posta elettronica riservati ai rifiuti Covid. Noi li contattiamo sui dati che ci vengono forniti dall'Asp, che forniscono puntualmente i numeri di telefono con gli elenchi aggiornati e d'altro canto noi abbiamo istituito un call center nel quale possiamo ricevere le segnalazioni degli utenti. Abbiamo messo a disposizione un numero dedicato e ci sono delle persone che rispondono tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle richieste dei cittadini, prendono le segnalazioni magari segnalando un'utenza un po' più urgente. Un lavoro tanto delicato quanto impegnativo anche per via della mole di rifiuti arretrati da ritirare. Dasti ha formato e messo in campo 30 squadre di operatori specializzati, dotati di tutti i dispositivi di protezione, distinti da quelli che si occupano della normale raccolta differenziata. Fine fanno poi questi rifiuti? Questi rifiuti vengono gestiti appunto come dicevamo come rifiuti speciali, pericolosi sono dei rifiuti infettivi e vengono termodistrutti, e vengono portati in un impianto appunto di termodistruzione. Videoconferenza tra gli industriali catanesi ed il ministro Provenzano. Fiscalità, zone economiche speciali, infrastrutture ed innovazione, le priorità per lo sviluppo della Sicilia, secondo Confindustria Catania. Vediamo il servizio. Fiscalità compensativa per il sudsblocco delle zone economiche speciali, investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture, misure per l'innovazione, incentivi per l'occupazione e gli investimenti produttivi nel mezzogiorno. Queste, in sintesi, non le richieste, ma le proposte che Confindustria Catania ha lanciato ieri sera al ministro per il sud, Giuseppe Provenzano, in occasione di un incontro in videoconferenza promosso dall'assise degli industriali catanesi. Anche se, attraverso la mediazione del sistema tecnologico, il faccia a faccia è stato chiaro. Tra gli imprenditori che hanno confermato la volontà di rimanere sul mercato è il governo che, oltre alla elencazione delle cose già fatte o in itinere, ha dato fiducia alla classe imprenditoriale catanese, consapevole che buona parte del PIL siciliano nasce sotto il vulcano. Le proposte che noi abbiamo fatto al ministro sono delle proposte che riteniamo le più ovvie e le più pratiche per riagganciare e riprendere un attimino questa frattura sociale ed economica con il resto d'Italia. Abbiamo portato al ministro la nostra consapevolezza e il nostro ringraziamento di quella che noi riteniamo la madre delle riforme, che è quella della decontribuzione del 30% fino al 2029 sui dipendenti in azienda. Le ZES, zone economiche speciali, riteniamo molto importanti, ma non solo per la fiscalità di vantaggio, per tutto quello che può venire dalle ZES, e lui ci ha detto che dovrebbe nominare a breve il commissario, ma per quello che noi riteniamo realmente l'importanza vitale di una delle misure che sia come retroportualità, che come portualità e che come investimenti può dare al nostro territorio. E non per ultimo abbiamo detto anche, ahimè, purtroppo quello che è successo sabato e lui ci ha detto che metterà in campo con la Regione tutte le misure nel più breve tempo possibile della tromba d'aria, che attenzione la tromba d'aria è un evento, una calamità purtroppo non prevedibile, però sappiamo benissimo che qui quando piove la città è in condizioni realmente di totale degrado, di totale abbandono. Questo ci dispiace molto per due motivi. Il primo perché purtroppo molto accade in zona industriale, voi sapete quando sta a cuore a noi la nostra zona industriale, per il nostro territorio e per chi ci lavora, e dopo perché realmente ci stiamo accorgendo che purtroppo in questo momento la città non ha nessun tipo di manutenzione, neanche quella ordinaria. Da solo l'imprenditore non può andare da nessuna parte, le istituzioni senza le imprese farebbero un buco nell'acqua. Assolutamente, dice bene lei per due motivi. Prima di tutto perché noi da soli non abbiamo la possibilità di poter crescere. La politica dal suo lato deve essere costruttiva laddove realmente si aggancia a quella che è un'imprenditoria sana e un'imprenditoria che vuole investire ancora in questo territorio e che in ogni caso, come noi abbiamo sempre ribadito, la Sicilia orientale con la sede di un'enorme quantità di imprese sane, di imprese multinazionali, di un tessuto strutturale di piccoli e medi imprenditori, quasi aziende familiari che ogni giorno si impegnano con le proprie risorse e le mettono nell'azienda, a far sì che questo territorio possa crescere. Imprenditoria, politica sana, economia sana vanno nella direzione di crescita immediata del nostro territorio. Il Ministro ha annunciato l'arrivo dei commissari per l'amministrazione delle due ZES siciliane e secondo un piano nazionale. Il PONmetro, ha detto ancora Provenzano, verrà esteso alle città medie del sud con sostegno al turismo nelle aree interne. Antonino Speziale, condannato per la morte dell'ispettore Filippo Raciti durante gli scontri al Massimino in occasione del derby del 2 febbraio del 2007, finirà la pena il 14 dicembre. Oggi la conferenza stampa del legale Giuseppe Lipera, che anche a seguito dei servizi giornalistici delle Iene all'apertura del fascicolo della Procura di Catania, ritenendo sempre Speziale, innocente, auspica sia la stessa Procura a chiedere la revisione del processo. La revisione del processo che ha portato alla condanna per omicidio Antonino Speziale, che durante il maledetto derby di calcio del 2 febbraio 2007 tra Catania e Palermo, registrò la morte dell'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti durante gli scontri tra le tifoserie. E quanto auspica il legale di Speziale Giuseppe Lipera, che questa mattina, a pochi giorni dalla fine pena del suo assistito, che infatti uscirà dal carcere di Gazzi il 15 dicembre, rifacendosi ai recenti servizi televisivi trasmessi dalle Iene, che avrebbero posto più di un dubbio sulla reale colpevolezza di Antonino Speziale, così come lo stesso Giuseppe Lipera, a dire la verità, ritiene sin dal primo giorno e avendo appreso di un'inchiesta aperta a seguito dei servizi dalla procura di Catania, che a questo punto dunque vuole vederci chiaro, auspica che sia proprio la stessa procura a chiedere la revisione del processo. Iniziativa che lo stesso legale ha affermato oggi durante la conferenza stampa dinanzi alla papà di Antonino Speziale, Roberto, ha sempre ritenuto di tenere in considerazione anche per il percorso processuale, addetto travagliato e contraddittorio, che ha poi portato alla condanna del suo assistito. So per certo che la procura di Catania sta indagando su queste puntate che sono andate in onda e non potranno venire fuori che è tutto vero quello che si racconta nel servizio. Fatte queste indagini, che fanno? Se le conservano. Quindi io voglio che si ripeta quello che è già successo, c'è stato un precedente molto bello in Sicilia, quando il procuratore generale Scarpinato ha chiesto la revisione del processo per coloro che erano stati condannati erroneamente per la strage Borsellino, furono condannati in base alle accuse allora ritenute veritiere del pentito Scarantino. Quando si scoprì che Scarantino era invece un imbroglione che raccontava gastronerie, con grande onestà intellettuale, la procura generale capitanata da Scarpinato chiese alla corte d'appello di Catania di fare la revisione del processo. Non vedo perché non debba succedere la stessa cosa qui a Catania. Lei ha chiuso la conferenza stampa dicendo Reciti è morto da eroe, Reciti è morto durante il servizio, eccetera, però speziale non c'è. E' un dubbio, un ufficiale di polizia giudiziaria che ha perso la vita durante il suo lavoro, ma non ci sono dubbi su questo, eroe morto in servizio a causa di servizio, ma non ucciso da speziale. Ma lei crede nell'innocenza di Antonino? Io sempre credo, io l'avvocato, per come sono andate le cose, è vergognoso, non si può condannare una persona senza prova, senza nessuna logica, e poi mi dispiace perché io l'ho capito subito perché mi stavano prendendo in giro, per un fatto che ve lo dico, ve lo voglio dire, tu non vuoi condannare, tu pubblico ministero, Angelo Busacca, non vuoi condannare un ragazzo per l'accusa di omicidio e poi butta tutti quanti fuori che ancora sono dentro lo studio e ti fai così a tutti quanti, ti fai raccogliere. Che cosa significa questo? Che cosa significa? Presi due professionisti delle spaccate ad Accireale dintorni. Si tratta di Vito Di Mauro, 37 anni, e Fabio Longo, di 45, di Acci Catena, indagati del concorso in furto aggravato, rapina aggravata e ricettazione. Le indagini svolte dagli investigatori dell'arma dei carabinieri, suffragate dall'acquisizione di numerose testimonianze, da riscontri, analisi dei filmati registrati, dai sistemi di videosorveglianza attivi nelle zone teatro dei raid dei due criminali, hanno consentito di collocare proprio i due indagati in diverse scene del crimine. State vedendo appunto alcuni frame. Tra il 19 e il 20 marzo presero di mira un bar in via Vittoria Emanuele ad Accireale. Lì, muniti di mazza, attrezzo che sarà utilizzato anche per altri colpi, tentarono di sfondare la vetrata dell'esercizio pubblico. E ancora un altro colpo al distributore dei carburanti, ubicato in via Cristoforo Colombo ad Accireale. Ancora un altro in una pasticceria in via Lorezzo Maddem, dove si impossessarono anche di un registratore di cassa, contenente 1.300 euro in contatti e fuggire a bordo di una Fiat Panda rubata. Un altro colpo in un bistro in via Nizetia da Cicatena e poi ancora un colpo in un panificio in via Vampogliera da Cicatena per impossessarsi di 250 euro contenuti tra la cassa ed un salvadenaio. Un ultimo colpo anche al supermercato di via 4 Novembre per poi fuggire sempre a bordo di una Fiat Panda che a quanto pare era un mezzo a loro particolarmente congeniale, visto che ne rubavano sempre una prima di commettere un furto. E adesso parliamo di un'operazione della Guardia di Finanza di Messina per evasione al fisco. Ci sono tasse evase per 5 milioni di euro. Dopo aver ricevuto 64 cartelle di pagamento per l'umessoversamento delle imposte, avrebbero attuato degli espedienti e progressivamente alienato beni in liquidità ad altra società a loro riconducibile. Finiti nel mirino della magistratura due amministratori di una società edile messinese. Scoperta un'evasione fiscale per oltre 5 milioni di euro dai finanzieri del Comando Provinciale che hanno eseguito un sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e mezzi per un valore complessivo di 400 mila euro. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina su richiesta della Procura nei confronti dei rappresentanti degli organi amministrativi della ditta operante nel settore dei materiali da costruzione e dell'edilizia. L'operazione è stata eseguita. Conclusione delle indagini svolte dalle fiamme gialle della compagnia di Taormina scattate a seguito della denuncia di uno dei soci che hanno consentito inoltre di accertare l'artificioso depauperamento del patrimonio della società realizzato attraverso contratti affitti e cessioni di beni e tramite la sottrazione di contanti dalle casse aziendali. Tale condotta aveva come unico obiettivo secondo le ipotesi d'accusa quello di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute e di vanificare i tentativi di riscossione coattiva dell'erario. La Procura della Repubblica ha ritenuto configurabile nei confronti dei due soggetti segnalati il reato di sottrazione fraudolente al pagamento delle imposte. La sede storica della MT di Via Sant'Euplio a Catania viene definitivamente dismessa uffici trasferiti alla zona industriale a Pantano d'Arci ciò comporterà un consistente risparmio dell'affitto ed un efficientamento dei servizi. Francesco Larosa L'azienda Metropolitana Trasporti di Catania ha una nuova sede la nuova collocazione a Pantano d'Arci consente all'azienda di annullare i costi d'affitto del vecchio edificio nel Via Sant'Euplio e di concentrare le risorse migliorando la funzionalità di tutto il comparto. Il trasferimento è già avvenuto da qualche giorno con i vertici aziendali pienamente soddisfatti. Il centro direzionale di Pantano d'Arci sorge su una superficie di 89.000 m2 mentre sono 602 i dipendenti in forza l'MT Catania. Non nascondo l'amarezza mia e a maggior ragione dei dipendenti che per 18 anni sono stati in quella sede quindi dove tutti abbiamo tanti ricordi ed è una sede storica però non era ragionevole tenere in affitto una sede quando abbiamo come azienda due immobili di proprietà quindi stiamo sfruttando questi due immobili la palazzina uffici è stata trasferita a Pantano d'Arci e quindi il centro direzionale sarà oggi strettamente collegato con tutti gli uffici dell'azienda quindi con l'officina col deposito col movimento e con tutti i centri operativi quindi garantendo una maggiore efficienza organizzativa e poi però in via Plebiscito nella storica sede di via Plebiscito lasciamo l'ufficio abbonamenti e l'ufficio relazioni col pubblico così che tutti i cittadini possono anche in centro trovare un punto di riferimento dell'azienda questo evidentemente comporterà un grosso risparmio circa 200 mila euro l'anno che sommati per i 18 anni fanno un impegno dell'azienda di quasi 5 milioni di euro su questo tipo di spesa che certamente non è produttiva e quindi questi soldi potranno essere reinvestiti con maggiore efficienza in servizi al cittadino e perché no anche in qualche misura di welfare a favore dei dipendenti risparmio ma forse anche maggiore efficienza visto che tutto è concentrato in un'unica sede assolutamente sì il problema dell'azienda era che aveva troppe sedi e quindi molte volte c'era poco coordinamento tra gli uffici di direzione e gli uffici più operativi questo verrà risolto è già stato risolto in questi giorni e quindi in definitiva ne beneficerà anche il servizio pubblico noi abbiamo avuto quest'anno una grave perdita di tutti i ricavi da biglietti e abbonamenti perché evidentemente i livelli di traffico si sono abbassati e grandi restrizioni da ottemperare quindi sia il contingentamento sui bus quindi anche le misure di sanificazione straordinarie che noi giornalmente fanno e che evidentemente hanno un costo Appello del parroco della borgata marinara di Santa Maria alla Scala Don Francesco Mazzoli siamo ad Acireale dopo il crollo di alcuni grossi macigni finiti sul percorso naturalistico delle chiazzette solitamente frequentato da escursionisti il costone lavico necessita di un intervento di messa in sicurezza almeno nella parte a ridosso delle abitazioni Salvo Cutuli Il distacco di alcuni macigni dalla parete rocciosa della Timpa in corrispondenza dell'abitato di Santa Maria alla Scala caratteristica borgata marinara di Acireale preoccupa i residenti delle abitazioni edificate a ridosso della parete lavica particolarmente sensibili alle piogge l'ennesimo crollo verificato se il lunedì scorso dopo quello del settembre di due anni fa interessato dai recenti lavori di ripristino dalla rete paremassi diventa dai grandi blocchi di roccia staccatasi da un'altezza di circa 300 metri e finiti nell'antica molattiera a poche decine di metri dalle case restituisce attualità la richiesta di messa in sicurezza della Timpa almeno nei tratti urbanizzati i grossi massi dal peso di svariate tonnellate li vedete nelle immagini finite sul percorso delle chiazzette frequentato dai tanti appassionati della natura rappresentano un serio pericolo per gli escursionisti ma anche per i residenti tra cui alcuni proprietari di abitazioni che per accedere nelle proprie case risalgono l'antico percorso di via Tocco Don Francesco Mazzoli parroco della frazione a capo del comitato civico a difesa della borgata si appella alle istituzioni affinché vengono predisposti progetti complessivi di messa in sicurezza dei tratti maggiormente esposti alle intemperie con il periodico rilascio di grosse porzioni di massi dalla parete rocciosa riserva orientata di competenza dalla regione siciliana avviato l'ITER e questa è una buona notizia da parte del genio civile di Catania per un importo pari a 260 mila euro destinato al ripristino delle condizioni di sicurezza nel tratto in cui si è verificato l'ultimo crollo la timpa rimane zona particolarmente fragile e sarebbe auspicabile un piano complessivo di collocazione di cavi e rete paramassi in realtà c'è bisogno di questo non piccole manutenzioni che servono solo da pezza ma ci vuole un vestito sulla timpa vero e proprio quindi un investimento che punti al salvaguardare il costone lavico e al salvaguardare la serenità dell'abitato la scorsa settimana lunedì abbiamo notato all'ora di pranzo il crollo basso di un altro pezzo di timpa ancora una volta non riparato da rete o da una maglia o da un parapendio che blocca la caduta dei massi e questo a mio avviso sembra che la timpa da buona amica ci voglia dire che deve essere riparata deve essere osservata possiamo dire che siamo stati fortunati questa volta ancora una volta perché se fosse capitato di domenica con tutto quel frequente utilizzo delle gazzette da parte della gente ecco possibilmente ci sarebbe scappato il ferito o il morto quindi stavolta è un avvertimento della timpa a dirci sbrighiamoci a lavorare su di me un milione di euro per la riqualificazione la promozione dell'antica via dell'acqua itinerario di epoca greco-romana di contrada reitana da Cicatene il progetto promosso dalla GAL il gruppo di azione locale delle Aci interessa anche a Cireale che ha competenza su un tratto dell'antico percorso integrato con l'area archeologica delle terme di Santa Venera al Pozzo ancora cutuli il GAL gruppo azione locale ha dato seguito alla richiesta di Aci Catene a Cireale di un finanziamento per la riqualificazione dell'antica via di Molina d'acqua un percorso naturalistico sconosciuto e più che si interseca tra le due comunità e si integra con il parco archeologico delle terme romane di Santa Venera al Pozzo il progetto prevede la riqualificazione dei sentieri e degli accessi pedonali soprattutto nelle zone più impervie rivalutando un'area di grande interesse paesaggistico rimasta ai margini dei percorsi turistici del comprensorio considerando inoltre la presenza del sito di maggiore interesse del territorio delle Aci le terme romane e l'annesso museo che raccoglie ritrovamenti di grande interesse un compendio di pezzi unici ritrovati nell'area di epoca greco-romana di cui si attende un'operazione di rilancio annunciata e non ancora avviata da parte della regione che ha istituito i parchi archeologici tra cui Santa Venera al Pozzo destinatari di un fondo di 800 mila euro al momento rimasti sulla carta rimettere mano al piano di riqualificazione dell'area degli antichi mulini d'acqua darebbe impulso all'offerta turistica per il rilancio di questi segmenti storico-culturali di indubbia bellezza è stato richiesto un milione di euro la somma è ripartita tra i comuni di Acireale e Cicatena in quest'ultima comunità insiste la competenza territoriale più ampia questo finanziamento per un importo di un milione di euro è diviso in due comuni perché è un'opera intercomunale 500 mila per Acireale e 500 per Acireale è chiaro che il progetto è unico perché il lavoro deve essere fatto in continuità e quindi non appena le somme saranno disponibili metteremo a gara il bando e l'opera si potrà realizzare è chiaro che andrà a rivalutare un angolo naturale di bellezze e come dire che particolarmente ricadono nel territorio di Acireale e in parte anche su Acireale ma la parte come dire più consistente maggiormente estesa riguarda la cicatena in un'oasi quel poco ancora di verde di aree libere naturali che sono rimaste che sono veramente una meraviglia più complicato dare seguito al rilancio delle terme romane di Santa Venera Pozzo area su cui i sindaci interessati non hanno competenza giuridico-amministrativa il discorso delle teme romane è un po' diverso perché lì passa attraverso il parco delle Aci e quindi la situazione è leggermente ingabugliata perché non si è capito poi che fine hanno fatto i lavori che dovevano iniziare perché sono stati bloccati e perché il personale è stato trasferito altrove mi dicono e quindi c'è una fase di stallo ma non conosco come dire nel merito il perché di questo fermo quindi mi fermo qua l'informazione di Oratg si conclude qui non ci sono infatti aggiornamenti dell'ultimo ora dunque vi ricordiamo che la prossima edizione sarà puntuale alle 19.45 l'edizione che avete appena visto disponibile all'indirizzo reitv.it sul nostro canale youtube e sulla pagina facebook adesso le previsioni metto a voi tutti buon pomeriggio tornano freddo e maltempo in Sicilia lo vedete nelle previsioni meteorologiche per la giornata di domani giovedì 3 dicembre il cielo sarà coperto da nubi su tutta l'isola ci saranno temporali sparsi da Messina fino a Ragusa da Catania fino al Trapanese i venti saranno sostenuti i mari da mossi a leggermente mossi uno sguardo adesso alle temperature sul capoluogo Etneo avremo una minima ed una massima rispettivamente di 12 e 17 gradi centigradi sul capoluogo Etneo però non ci sarà la temperatura più alta questa infatti sarà registrata a Messina con 18 gradi centigradi la più fredda denne nottata con 4 gradi centigradi un po' Grazie a tutti.